I militari della sezione GOA del GICO del Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione a 12 provvedimenti cautelari personali richiesti dalla Direzione Distretionale Antimafia di Reggio Calabria e disposti dal giudice per le indagini preliminari. I soggetti arrestati sono stati coinvolti nell'ambito della maxi-operazione antidroga denominata Due Mari culminata lo scorso 30 giugno con l'emissione in Italia di 11 provvedenti di fermo di indiziato di delitto. La suddetta operazione è stata condotta in sinergia tra la Guardia di Finanza, la Polizia Nazionale Colombiana e l'ADEA, l'Agenzia Antidroga Americana, che ha permesso di sgominare un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti e di sequestrare oltre 11 tonnellate di cocaina. Il filone italiano dell'inchiesta diretta dalla Direzione Distretionale Antimafia di Reggio Calabria ha permesso di identificare 15 narcotrafficanti responsabili di aver importato nel territorio nazionale oltre 240 kg di cocaina purissima. Le fiamme gialle sono riuscite a monitorare le transazioni monetarie finalizzate alla consegna del denaro necessario per finanziare l'acquisto dello stupefacente. In alcune occasioni in particolare, l'organizzazione indagata si è avvalsa di una struttura parallela dotata di un'apposita batteria di corrieri che prelevavano il denaro dagli acquirenti calabresi per poi farlo giungere ai fornitori d'oltreoceano. L'operazione italiana, per la specificità dell'organizzazione indagata, ha permesso la nascita della più ampia attività di livello mondiale condotta dalla DEA americana, meglio nota come operazione Hungry Pirate 2, svolta contestualmente in diversi paesi del mondo e avente come denominatore comune i medesimi fornitori, in alcuni casi anche gli stessi clienti indagati nell'operazione Due Mari. In particolare, le risultanze investigative emerse dalla sezione GOA del GICO di Catanzaro, compendiate in apposite comunicazioni inviate all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, hanno consentito a quest'ultima l'interscambio di elementi conoscitivi sia con l'autorità sudamericana che con la DEA americana. In questo ambito, l'attività sinergica tra i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro e la DEA americana, supportata dalla preziosa collaborazione della CBP e della Panama Express Strike Force North, ovviamente statunitense, ha consentito di porre in essere, unitamente alle forze di polizia nazionali, una proficuazione di contrasto in varie parti del mondo, tra cui i paesi come la Columbia, il Costa Rica, Panama, Messico, Brasile, Lima, Cile, Venezuela, Repubblica Dominicana ed Equator. Le conseguenti indagini condotte dalla DEA in Sud America hanno portato all'individuazione, pensate, di sette laboratori clandestini, al sequestro di 11 tonnellate circa di cocaina e all'arresto in fragranza di reato di ben 111 soggetti. Le investigazioni in Columbia, che hanno permesso di conseguire in quel territorio 22 provvedimenti custodiali, hanno consentito anche l'identificazione di membri chiave dell'Esercito di Liberazione Nazionale, organizzazione terroristica responsabile di reati di estorsione, sequestro di persone e omicidio, oltre al traffico di stupefacenti. Quest'ultima, unitamente alla FARC, Forza Armata Rivoluzionaria della Columbia, garantiva la sicurezza del trasporto dello stupefacente dai laboratori ai punti di deposito costieri, laddove passava sotto il controllo dei LOS Urabenos Bandas Criminales, che ne garantivano la fuoriuscita in sicurezza dal territorio colombiano. La cocaina così veniva caricata su grandi navi mercantili, su imbarcazioni da pesca e anche su barca GoFast, per essere trasportata verso i paesi di transito, quali Costa Rica, la Repubblica Dominicana e Panama, per essere successivamente inviata in Europa e negli Stati Uniti. Gli spiccati profili internazionali dell'operazione sono stati possibili anche grazie al contributo del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l'Interpol, e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. L'intera operazione Due Mari ha permesso di infliggere all'organizzazione criminale rilevanti perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che soprattutto dei mancati guadagni. La droga, complessivamente sequestrata, infatti, una volta lavorata ed immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 3 miliardi di euro.